perché credo in qualcosa di più profondo credo ho l'amore per questo lavoro ho l'amore per l'alta qualità o l'amore per l'italia e credo che gli ambasciatori del gusto siano i più capaci traduttori e credo che siano i più grandi allenatori per far sì di mantenere questa grande squadra unita tutti i giorni e facendoli in maniera concreta quindi gli ambasciatori del gusto un'associazione concreta cosa non da poco in questo momento storico sono persone che fanno siamo persone che fanno tutti i giorni e lavorano tutti i giorni perché è concreta perché è un'associazione che coinvolge i propri associati perché li ascolta perché li cura perché osserva è sul pezzo guarda quello che li gira intorno non è mai indietro anzi è sempre avanti questa è una cosa fondamentale di un'associazione non abbandona i propri associati ci continuano a chiamare noi siamo sempre informati dei nostri colleghi di quello che succede abbiamo newsletter continue nei nostri smartphone è un'associazione sul pezzo a 360 gradi a livello comunicativo a livello organizzativo a livello di filiera di qualità a livello di politica è tutto l'associazione degli ambasciatori del gusto si occupa di quello che è a 360 gradi la ristorazione e non solo guarda qua qua ce ne sarebbero di cose da dire io credo che essere ambasciatori del gusto vuol dire portare con fierezza in alto una bandiera in alto la bandiera della qualità in alto la bandiera di una nazione in alto la bandiera dell'italia e quindi questo comporta una grandissima responsabilità il senso di responsabilità vuol dire far parte di ambassatori del gusto